Il leader del Movimento 5 Stelle torna sulla polemica di questi giorni con il governo e con Draghi, anziché continuare ad armare l'Ucraina portiamo avanti i negoziati, le armi, la guerra, il governo, il futuro politico del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo e il Paese, a partire dalla polemica con Draghi e con l'esecutivo sall'invio delle armi in Ucraina. Fino ad arrivare all'alleanza con il Partito Democratico, siamo d'accordo nel condannare l'aggressore e nel sostenere l'Ucraina ha messo subito in chiaro Conte. Ma l'Italia con Spagna, Francia e Germania, devono essere in prima fila per cambiare il corso delle trattative. Anziché continuare a inviare armi a un Paese sufficientemente armato. Il leader del Movimento ha insistito, i negoziati devono essere portati avanti con perseveranza e determinazione. Soprattutto ora che la Russia è più interessata perché aveva pianificato un'aggressione militare che avrebbe dovuto portare a una vittoria in breve tempo. Poi è tornato alla questione delle armi. Dopo tre decreti d'invio, l'Italia ha già dato il suo contributo. Ora servono sforzi diplomatici più intensi. Dobbiamo evitare un'escalation militare. Per Conte non c'è alcuna distanza con il ministro degli esteri Di Maio, che sta lavorando per la pace. Non c'è dunque una linea di governo e una di partito. O almeno così ha detto Conte. L'ex presidente del Consiglio si è detto fiducioso che il Movimento verrà ascoltato. Solleviamo questioni politiche, non strumentali. Sosteniamo la negoziazione. Non abbracciamo il riarmo. Sono richieste di buon senso e non vedo perché non dovrebbero ascoltarci. Con Draghi c'è un rapporto leale, ha spiegato Conte, mentre con il PD ci deve essere una collaborazione strategica. Ma attenzione, il PD deve capire che non accettiamo nessuna posizione da subordinati ha attaccato il leader grillino e poiché ci sono gravi divergenze politiche, i dem devono accettare il dibattito, una sintesi e che prevalgano le migliori decisioni per i cittadini. Conte ha anche ricordato i tempi del governo giallo-verde e ha detto di aver capito che il sovranismo non offre soluzioni, ma ora l'importante è che le prossime elezioni siano vinte da forze progressiste. Conte ha anche ricordato i tempi del governo giallo-verde. Grazie a tutti.